Ciao a tutti ragazzi, io sono Zisa, benvenuti alla Zisa TV. Oggi voglio portare un caffè nuovo. Questo qua si chiama il caffè dell'Ambrosiano, preso in offerta 89 centesimi la scatola. Brioso, intensità 10, la confezione è rossa e quindi dovrebbe essere quella linea dei cremosi, tipo la qualità rosso lavazza e quella lì, la categoria più diffusa. Andiamolo a provare e vediamo come mai costa 89 centesimi. Ragazzi, andiamolo a provare. Ed ecco spiegato perché costa 89 centesimi in offerta a un euro a prezzo pieno. Acqua sporca, non è né cremoso, né intenso, né nulla. Lo consiglio assolutamente no, va bene che costa 90 centesimi ma sa solo di acqua sporca. Ragazzi, con questo caffè ormai me lo bevo imbevibile, io vi saluto. Se il video vi è piaciuto vi mettete mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi alla Zisa TV. Con l'ultimo schifoso sorso vi saluto e ci vediamo al prossimo video.